in 1'17'3, una di vantaggio per East Banleone, poi è Lidex che però peggiora ogni volta in curva, un quarto intermedio in 29 e mezzo, 1'32 e mezzo i tre quarti di miglio, sembra inavvicinabile East Banleone, il Toslanchiu e Rilly Blessed di Nunzio Squeglia che entra con chiaro margine è diretta d'arrivo, East Banleone mentre la lotta per le piazze vede Lidex riprendersi e respingere per una media di 1'16'3 e tutto dal Valentini allinea lo studio.